L'attesa risposta della Fondazione De Rosa all'amministrazione comunale di Praia a Mare sulla carelle Beach Soccer è arrivata. La replica è stata affidata alle gare della Fondazione Norina Scorza che subito precisa la natura del rapporto tra la Fondazione e la manifestazione. È notorio che la Fondazione da quattro anni a questa parte è la principale promotrice della suddetta manifestazione, la cui paternità precisa l'avvocato e quindi le decisioni sulle location restano dell'IBS. Poi l'avvocato entra nel merito delle dichiarazioni dell'assessore De Paola soprattutto quando si parla della collaborazione prestata dal comune alla Fondazione. Come mai, si chiedere unicamente l'avvocato Scorza, il comune di Praia a Mare proprio in persona del vice sindaco Pietro De Paola ha disposto il 4 luglio 2008 la chiusura al traffico della strada comunale denominata Lungomare Sirimarco e poi il signor Stefano De Rosa in qualità di amministratore unico della Fondazione viene indagato dalla procura della Repubblica per detta chiusura. Sul tema dei contributi poi l'avvocato Scorza ricorda che negli anni passati la richiesta formale di contributo era sempre stata precedente da un colloquio informale cercato dalla Fondazione. Non era forse compito dell'assessore al turismo, si interroga l'avvocato, comprendere tale evento tra i maggiori dell'estate praiese e di conseguenza preoccuparsi affinché venisse realizzato? Quanto ai presunti motivi elettorali che avrebbero spinto la Fondazione De Rosa a disinteressarsi dell'evento, la precisazione è ancora più chiara. Giorgio e Stefano De Rosa non hanno alcuna intenzione di candidarsi alle prossime elezioni. Si augurano soltanto, scrive l'avvocato Scorza, che chi deciderà di candidarsi vorrà finalmente preoccuparsi del paese stilando un programma che si spera non rimanga lettera morta sulla carta ma sia effettivamente realizzato.